Il quinto Centro Sociale per Anziani di Pescara sorgerà in centro e si affiancherà ai quattro già esistenti dislocati nel territorio cittadino tra Via Riosparto, Via Stradonetto, Via Di Sotto e Via Nazionale Adriatica Nord. Il Comune ha già pubblicato il bando per la coprogettazione e la gestione della nuova struttura, che offrirà nuovi servizi e attività sociali, sportive e culturali ad altri cittadini della terza età, che si affiancheranno agli oltre mille che già usufruiscono dei servizi nei quattro centri sociali già esistenti secondo l'approccio del cosiddetto invecchiamento attivo. C'è tempo fino all'11 ottobre per rispondere al bando, come spiega il Tg8 a Delchi Sulpizio, assessore comunale alle politiche sociali che abbiamo incontrato presso il centro polivalente Britti di Via Riosparto a San Donato. Pescara ha già una grande tradizione sui centri sociali. Oggi siamo qui al Britti che ha visto sensibilmente aumentare, questo l'abbiamo voluto con forza noi come amministrazione cinque anni fa, questo centro sociale e siamo passati da 300 persone a oggi oltre 600 anziani che si vedono qui e fanno tante attività. Informatica, dei corsi in inglese, il corso di ginnastica, che abbiamo la problematica di aumentare il numero di corsi perché la richiesta è veramente tantissima. Perché un altro centro sociale? Perché ce lo richiedono le persone. persone. Abbiamo deciso di mettere il quinto Pescara Centro perché quando furono programmati non c'era questa esigenza sul centro. Oggi c'è questa esigenza, ce lo chiedono i cittadini. Da qui la necessità di intervenire e di fare un bando che prevede appunto un centro sociale anche per gli anziani di Pescara Centro. Quante sono le persone che si servono di questi centri sociali? Ormai siamo ampiamente oltre quasi sulle 1500 persone su tutti i nostri centri sociali. C'è una richiesta da parte delle persone anziane di voler frequentare, c'è proprio una richiesta di voler partecipare a queste iniziative. Qui noi abbiamo anche fatto un nuovo protocollo e visto che ci sono anche i campi da calcetto e campi da basket. C'è questa cosa che anche il pomeriggio vede coinvolti da una parte i nonni che sono dentro a fare le loro attività e da parte i loro nipoti che sono fuori, che giocano a basket o giocano a un campo da calcetto. Quindi il cittadino, il ragazzino che vuole partecipa, si ferma il gioco, quindi non sono attività sportive oppure centri sportivi veri e propri. Chi può partecipare alle attività che vengono organizzate qui? Possono partecipare tutti gli anziani che ritengono che poi non mi piaccia poi l'anziano, io chiamo i miei ragazzi perché poi nasce proprio un rapporto, loro mi consigliano attività da fare, poi noi cerchiamo di farle, completamente tutto pagato dal comune di Pescara che quindi mette delle risorse importanti in maniera tale che basta iscriversi e frequentare e soprattutto divertirsi. Cosa si specifica nel bando del comune di Pescara per questo quinto centro sociale in città? Che devono trovare un'area e una location adatta per fare lo svolgimento e poi che chi propone devono essere persone qualificate. Ricordiamoci che tutto il personale che gestiscono questi centri sociali sono personale altamente qualificato e quindi devono essere quantomeno assistenti sociali oppure devono avere tutto il supporto, ingegneri oppure persone abilitate e quindi diciamo l'alta competenza nella gestione di un centro sociale.